Bottecchia Factory Team al completo per la 23esima edizione della Costa degli Etruschi Epic da Marina di Bibbona in provincia di Livorno, la Marathon inserita nel calendario internazionale UCI Noi ci presentiamo oggi con la squadra completa che giochiamo in Toscana dove è la casa della nostra squadra siamo a un'oretta della nostra sede e niente abbiamo già provato il percorso due giorni fa il venerdì l'ho provato proprio sotto la pioggia, è un bel giocattolo in mezzo del bosco perché è un continuo andare in bici e non andare in bici ecco però comunque ci divertiremo tantissimo oggi e mi sembra che sia riuscito un po' e oggi la concorrenza è alta c'è qua veramente giustamente una uscita di Volseries che ci sia una concorrenza molto elevata Il livello è sicuramente altissimo, poi ha piovuto anche nei giorni scorsi sicuramente ci sarà un po' di fango nella parte centrale La gara sarà sicuramente una gara impegnativa, è una delle più importanti a livello nazionale nelle marathon nazionali quindi le aspettative da parte mia sono così così un po' perché arrivo da un periodo non proprio ottimo di forma però comunque cercherò di dare il 100% perché le gare così bisogna interpretarle nel modo corretto e impegnarsi al massimo quindi oggi sicuramente ci sarà da fare tanta fatica ma anche da divertirsi Io ho scelto la Gardena perché è un percorso sì veloce e ci sono molti chilometri di pianura sia all'andata che al ritorno però la parte centrale è secondo me impegnativa e comunque ci sono dei single track rocciosi da affrontare allora ho preferito andare sul sicuro e utilizzare la Gardena Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti